su una era 7, Monaco Chiara su Beilam che chiuderà la categoria Novis si prepara a partire Simona Sabatini su Stella Circo Olimpico Ecomonte, un amico Tiberi Mirko Apple Bending, effettuato in maniera molto veloce e precisa, molto vicino ai pali ora siamo già al punto con lo spostamento dell'oggetto, anche questo effettuato in maniera corretta strettoia per lei adesso prima di arrivare al quadrato quadrato, effettuato piccole precisioni sulla girata è già la campana, è già il back, effettuato velocemente in maniera corretta ora si procede all'ultimo ostacolo che la separata traguardo è il partito del cancello il partito è effettuato in questo momento è tutto in decisione, ora il cancello viene spalancato e lei può passare a tagliare traguardo con il tempo di 1, 10 e 66 1, 10 e 66 per Sabatini e Simona su Stella e lei può passare a tagliare traguardo con il tempo di 1, 10 e 66 per